Prodotti DOP e IGP e un gusto che lega Italia e Stati Uniti. Sono queste le principali caratteristiche della seconda edizione di My Selection, la linea di hamburger premium di McDonald's con ricette selezionate da Joe Bastianich. Le nuove proposte scelte dall'imprenditore italo-americano arrivano anche in Campania. Le eccellenze italiane selezionate infatti sono state presentate in conferenza stampa questa mattina presso il ristorante McDonald's di Mercatello. A Salerno noi lavoriamo e siamo presenti come azienda da qualche anno ma personalmente io sono radicato su Salerno in termini familiari quindi tengo molto a questo territorio che si possa sviluppare e come il marchio crede fortemente in questi territori non solo salernitani ma campani, il sud Italia per noi rappresenta certamente un volano di sviluppo importante è una prospettiva molto seria al punto che l'anno scorso abbiamo presentato il programma dei prossimi cinque anni che riguarda 16 nuove aperture e come diceva l'assessore di Salerno chissà che, speriamo, non venga presa in considerazione anche qualche location locale per così dire. Però sicuramente sono 16 aperture importanti, in cinque anni è uno sforzo notevole investimenti per decine e centinaia di milioni all'anno nelle varie attività 600 posti di lavoro previsti con questo piano di cinque anni che si vanno ad affiancare agli altri 900 già operanti più del 50% sono donne, abbiamo una età media sotto i 29 anni la maggior parte dei nostri direttori, quasi al 50% sono sempre donne perché è un'accoglienza che deve essere legata non solo agli aspetti commerciali ma anche allo star bene insieme in queste nostre strutture e questo ci rende orgogliosi perché restituiamo, cerchiamo di restituire al territorio il consenso che ci attribuisce in più la filiera enogastronomica ormai all'80% è italiana tutta la parte che riguarda il breakfast, la colazione la nostra filiera di fornitura è campana l'insalata di Nolfi e qui di Salerno, in provincia di Salerno abbiamo identificato nell'Expo 2015 una serie di fornitori giovani che potessero acquisire il contratto di fornitura con noi l'olio per esempio delle insalate viene dalla Calabria e via così cerchiamo di dare visibilità e risalto a questo meccanismo di copertura delle materie prime perché ovviamente sono delle eccellenze italiane e noi questo vogliamo proporre lo stesso fatto delle OTF è significativo perché vicino a quello ci sarà il servizio al tavolo ci sarà un accudimento sempre maggiore, più profondo del cliente senza considerare il fatto che in prospettiva ci sarà anche my delivery non so se qualcuno di voi ha già visto che in alcune città è già in forma sperimentale avanzata ed inserito già come sistema speriamo entro quest'anno o all'anno prossimo massimo di avere anche a Salerno questi servizi Enzo Maraio si è parlato di oltre 600 assunzioni nel prossimo anno quanto è importante la collaborazione con le istituzioni in questo senso? Ma è fondamentale avere delle istituzioni che incentivano, accompagnano e favoriscono anche l'impresa privata in questo caso stiamo parlando di un imprenditore lungimirante che fa dell'innovazione anche della capacità di adeguare la propria offerta quello che è il contesto e anche la velocità nel quale si muove il mondo McDonald's Salerno ha una peculiarità di fondo è un'azienda glocal utilizza un marchio internazionale promuove la città, promuove la destinazione attira la gente ma nello stesso tempo prova a coinvolgere il territorio il tessuto imprenditoriale il tessuto anche della filiera enogastronomica salernitana i cosiddetti prodotti a chilometro zero ha parlato il dottore Snichelotto dell'insalata della Piana del Sele di altri prodotti che vengono dal territorio credo davvero che sia un bel esempio di valorizzazione territoriale anche di sinergia imprenditoriale